L'educazione, anche quella stradale, si impara da piccoli. E' questo il senso dell'iniziativa promossa dall'ACI di Pistoia in collaborazione con diversi comuni della Pistoiese, un progetto di educazione stradale il cui programma avrà inizio nel corso del mese di ottobre e prevede l'utilizzo da parte delle classi in orario scolastico di uno spazio al coperto appositamente realizzato nella struttura Wonder Park di Ponte Stella dove i bambini potranno imparare le regole della circolazione mediante esercitazioni pratiche in un circuito con rotatori, incroci, semafori, segnaletica con biciclette e automobiline a pedali in collaborazione con la Polizia Municipale. Quest'anno abbiamo progettato insieme a Wonder Park qui a Ponte Stella un percorso allestito per cui ci sarà la possibilità per le scuole di avere nell'inserimento dei piani di formazione anche l'educazione stradale in maniera continuativa e con prove pratiche. Però lo vogliamo fare in una maniera che i ragazzi abbiano un linguaggio adeguato e nello stesso tempo possano divertirsi. È ormai alcuni anni che a Pistoia questo si ripete in collaborazione con l'Asci che noi ringraziamo che ci sottopone questo all'attenzione e penso che sia un fattore educativo importante per i giovani in particolare perché questo si va a trasmettere anche all'interno delle scuole.